Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro sullo scoglio di Mare Chiaro numerose attrezzature balneari utilizzate da due soggetti che occupavano abusivamente un'area demaniale marittima, esercitando di fatto attività di noleggio di lettini e sedie. In particolare, le fiamme gialle hanno riscontrato che gli stabilimenti balneari stessero operando senza alcun tipo di autorizzazione e concessione ed hanno provveduto a sottoporre a sequestro 240 lettini e oltre 50 sedie depositate sugli scogli. Inoltre, presso il luogo di partenza delle cosiddette navette da e verso gli stabilimenti abusivi, sono stati scoperti due lavoratori in nero che svolgevano anche essi illicitamente attività di trasporto marittimo di alcuni bagnanti. Nei confronti del datore di lavoro è stata richiesta la sospensione dell'attività commerciale e proposta la maxisanzione che va da 1.800 a 10.800 euro per ciascun dipendente non in regola. Sono state poi elevate sanzioni fino a un massimo di 11.000 euro per le due imbarcazioni che effettuavano senza autorizzazione il trasporto di persone a pagamento. I titolari del Lido sono stati denunciati all'autorità giudiziaria e dovranno rispondere di occupazione abusiva di spazio demaniale ai sensi del codice della navigazione, mentre sono in corso approfondimenti per valutare l'entità dell'invasione fiscale. Grazie a tutti.